Ha gestito male le forze da un punto di vista proprio atletico, cioè nel secondo tempo è apparsa forse un po' più stanca, è solo una sensazione, mentre potremmo avere qualche difficoltà a sentirci perché c'è il mister Allegri che altrove sta un po' alzando la voce, il mister di solito siamo vicini e la alzi tu, oggi non te l'hanno fatto alzare. Se fanno un cazzacca Allegri è il segno che c'è qualcosa che non va bene. Ci siamo, allora ritorniamo diciamo, un Inter che ha dato forse tutto troppo rapidamente, tutto nel primo tempo, forse nel secondo si è sentito un po' più di stanchezza, poi c'era anche Brozovic che tornava dall'infortunio, anche lui insomma un po' di, non poteva chiaramente essere magari già il.